Ciao a tutti, volevo mandare un saluto alla federazione, quest'anno ho ottenuto un terzo posto al team Relais, agli europei di Plouet, è stato un anno molto particolare, molto corto perché si era chiuso negli ultimi 4 mesi, è stato un buon terzo posto, speriamo che l'anno prossimo sia migliore, auguro a tutti un felice anno nuovo e un saluto a tutti, ciao!